Che meraviglia e quanto ha esclamato il sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Vittorio Sgarbi, ammirando il golfo dalla balconata dei Giardini d'Avalos, il sottosegretario è arrivato a basto per visitare il centro storico. La prima tappa è il Castello Caldoresco, la Cattedrale di San Giuseppe, Palazzo e Giardini d'Avalos, la Pinacoteca, la Chiesa di Santa Maria Maggiore, Via Adriatica, il Portale di San Pietro, la Chiesa di Sant'Antonio di Padova e infine le Terme Romane. Il sottosegretario, accompagnato dal Vice Sindaco, Licia Fioravante, e dall'Assessore della Cultura, Nicola Della Gatta, ha manifestato grande apprezzamento per la città di Basto. È stato un onore, un'opportunità e un grande riconoscimento accoglierlo e accompagnarlo nei luoghi di arte e bellezza, ha spiegato il Vice Sindaco, Licia Fioravante. Sgarbi ha più volte sottolineato la grande ricchezza del patrimonio artistico cittadino, restando stupito del valore delle opere contenute nei nostri musei civici. I complimenti di un critico d'arte per gli allestimenti e per l'organizzazione degli spazi sono la soddisfazione più grande che un amministratore possa avere. Il critico d'arte Sgarbi, oltre che per le bellezze della città, ha dichiarato l'Assessore alla Cultura, Nicola Della Gatta, si è complimentato in particolare per lo stato di decoro dei nostri musei civici, per l'appena riaperto museo archeologico, come per la mostra tematica di Piero Gilardi e la pinacoteca dedicata ai fratelli Palizzi. La visita conclusiva al sito archeologico delle terme romane ha suggellato con soddisfazione l'attività di riqualificazione portata avanti dalle maestranze della soprintendenza.